La nostra Marika Di Pierri, reduce dal World Social Forum di Tunisi la settimana scorsa, credo che in proposito ci possa raccontare un altro caso, ma davvero concreto e clamoroso, di confine che si sposta fra l'idea di proprietà privata e beni pubblici. Ed è una buona notizia che arriva ancora una volta da un paese lontano dal nostro, dall'India. Big Pharma, molti lo sapranno, è il cartello che riunisce le maggiori industrie farmaceutiche al mondo, che pochi giorni fa ha avuto una storica sconfitta di nuovo dall'India, perché la Corte Suprema Indiana, nello specifico, ha permesso, ha rigettato il ricorso presentato dalla Novartis, che è una multinazionale svizzera, permettendo alle industrie farmaceutiche indiane di continuare a produrre un farmaco a basso costo, che è un farmaco importante perché è un potente antileucemico, che si chiama Glivec. Secondo la società questo brevetto doveva essere allungato per altri 20 anni perché ne hanno presentato una versione che hanno definito rinnovata. Secondo la Corte Suprema Indiana invece era un escamotage fondamentalmente per avere altri 20 anni di profitto da un farmaco che è un salvavita e che costa 2700 euro se a produrlo è la Novartis, ma che costa soltanto 175 euro se lo producono le case farmaceutiche indiane. L'azienda si è difesa, come spesso accade, spiegando quanto costa la ricerca farmaceutica e dicendo che una pronuncia di questo tipo potrebbe alla lunga ledere i malati perché le industrie farmaceutiche in assenza di garanzie sui brevetti potrebbero non ritenere più conveniente produrre alcuni farmaci. Di certo c'è che la guerra tra la Big Pharma e i BRIC, che sarebbero come sappiamo Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, praticamente le nuove potenze mondiali, è in atto già da un po'. In effetti i precedenti non mancano, già il Sudafrica nel 2001 aveva vinto la prima battaglia per l'utilizzo di farmaci anti-AIDS low cost. L'India non è la prima volta che emette sentenze contro i brevetti, lo ha già fatto contro la Roche, lo ha già fatto contro la Bayern e l'India stessa, assieme al Brasile e alla Cina, è diventato un paese importante per i farmaci generici che cerca appunto di difendere promuovendo appunto il diritto alla salute contro i profitti delle multinazionali. Nello stridente contrasto tra questa questione, cioè tra l'accesso ai farmaci e ai megaprofitti, sicuramente non ha avuto un ruolo utile alla Novartis quello che è accaduto con il presidente uscente ed è un caso che ha fatto scalpore perché Daniel Vasella, quando doveva lasciare l'impresa, doveva ricevere un bonus, una buonuscita stratosferica, cioè 72 milioni di franchi svizzeri che sono 60 milioni di euro, una cifra alla quale ha dovuto rinunciare proprio per il clamore che ha avuto la notizia ma che ha portato ad una vittoria importante perché proprio in Svizzera il 3 marzo scorso è stato approvato un referendum con la stragrande maggioranza dei voti, quasi il 68%, perché d'ora in poi la legge dovrà definire dei limiti ai mega stipendi dei manager, anche delle imprese private, cosa che fino a poco tempo fa era inimmaginabile. Il problema di fondo, l'abbiamo detto anche in molti interventi delle scorse settimane, anche quando riguarda i farmaci è comunque lo stesso, cioè le medicine possono essere considerate una merce come le altre, fino adesso è così perché tutti i farmaci, anche quelli salvavita o quelli essenziali devono sottostare al momento agli accordi commerciali imposti dal VTO o da altri organismi finanziari che hanno tra l'altro una influenza molto forte nelle politiche sanitarie e nelle politiche assistenziali dei paesi e se prima accadeva soprattutto nei paesi del sud del mondo ora viene sempre di più anche da noi con un progressivo smantellamento dei sistemi sanitari nazionali appunto pubblici. Un altro punto da non tralasciare è che però il diritto alla salute, se è vero che riguarda l'accesso ai farmaci riguarda anche un'altra questione a monte ancora prima, riguarda il diritto delle persone a vivere in un ambiente sano e non contaminato e questo lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che non a caso ha inserito l'integrità degli ecosistemi tra le precondizioni essenziali alla salute. Questo vuol dire, e mi piacerebbe affermarlo con forza, che bisognerebbe valutare prima e non dopo i costi sociali e sanitari di alcune politiche produttive, estrattive, mega infrastrutture e discariche oppure ad esempio che in Italia dovrebbe essere una priorità bonificare e riconvertire dei luoghi assolutamente insalubri come Porto Marghera o Taranto soltanto per citare i casi più eclatanti e soprattutto che dovrebbe essere impedito d'ora in poi di mettere dei poli industriali che durano normalmente pochi decenni che avvelenano però delle città per secoli oppure per un tempo indefinibile vista il livello di contaminazione che si raggiunge. Infine l'ultima cosa, garantire il diritto alla salute potrebbe voler dire in Italia anche istituire registri tumori in tutte le regioni che aiutino a capire qual è l'effetto sulle comunità che sono obbligate a vivere accanto a siti contaminanti. Questo per far sì che unendo i due discorsi, quindi la prevenzione primaria da una parte e l'accesso universale alle cure, a partire proprio dal nostro paese ma ovunque sia possibile, come diceva Cicerone più di 2000 anni fa, che la salute del popolo sia la più suprema delle leggi.